ciao ragazzi benvenuti su privacarra di san cesario oggi vi presentiamo una favolosa nissan qashqai che vale la pena davvero di acquistare perché seguitemi nel video inoltre non dimenticatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina di facebook di privacar san cesario ciao ragazzi grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione